La battaglia nemica! Medico nemico! È là! We have lost objective, Edward. Quello è un medico, giusto? Datemi delle munizioni! Avanti, conquistiamo l'obiettivo! Medico nemico individuato! La! Vitragliatrice nemica! Un soldato a cavallo! Lasciù! Ho individuato una vitragliatrice! La! Una vitragliatrice nemica! Occhi aperti! C'è un assaltatore! Vedo un medico! Occhi aperti! C'è un ricognitore nemico! La! C'è un ricognitore! Medico! Laggiù! L'obiettivo non deve... L'obiettivo non deve... L'obiettivo non deve... Occhio! Un medico nemico! Un ricognitore! Visto! Cavolo! Un nemico a cavallo! Dobbiamo conquistare l'obiettivo! Conquistiamo l'obiettivo! Cassetta medica per te, amico Cassetta medica per te Conquistiamo subito l'obiettivo Lancio una granata Attenzione Ora ti curo Conquistiamo l'obiettivo Lan, conquistiamo l'obiettivo Ho dato l'eniclo individuale Attenzione Quello è... Capito Dein feindlicher Sanitäter Helft mir hier mal I'VE LOST OBJECTIVE DAF Smaschere il monitor! Grazie a tutti Sì, scusate, granate! Sì, scusate! Sì, scusate! Sì, scusate!